Garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie ai minori con disturbo di spettro autistico o disabilità grave, in particolare di tipo intellettivo, comunicativo e neuromotorio provenienti da tutta la Regione Marche, ma anche ai pazienti maggiorenni con disturbo di spettro autistico o disabilità grave residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. È il progetto DAMA, Disabled Advanced Medical Assistance, un lavoro partito diversi mesi fa attuato dall'equip del Centro Regionale Autismo Età Evolutiva della Neuropsichiatria Infantile. Attraverso DAMA viene garantita l'accoglienza medica avanzata per persone con disabilità, con bisogni speciali, adulti e minori che verranno accompagnati con un percorso ospedaliero personalizzato in base alle caratteristiche del paziente. Abbiamo raccolto un'iniziativa lodevolissima da parte della Regione che ha deciso di finanziare i progetti che vanno a interessare i più fragili tra i fragili, quindi bambini autistici, portatori di disabilità neurosensoriali. Abbiamo avuto il promotore di questo progetto DAMA che è partito qualche anno prima al San Paolo di Milano, ci ha raccontato la sua esperienza e lì è stato amore, perché di fronte alla capacità di una struttura sanitaria di prendersi caro di questi bambini fragili, capire i loro problemi, quello che sente il bambino, quello che percepisce la famiglia, i loro problemi. Quindi creiamo un ambiente favorevole di modo che entra con un percorso protetto, vede delle facce simpatiche, delle figure di riferimento. Addirittura hanno creato dei video nel quale il bambino può vedere e la loro famiglia possono vedere prima che cosa gli succederà. Quindi non affronta l'incognito, affronta qualcosa che conosce. Il risultato è stupendo e tengo a dire che questo è solo il primo momento di un percorso che non potrà che crescere. Abbiamo creato una rete di professionisti, abbiamo cercato dei volontari all'interno dell'azienda e almeno in ogni struttura abbiamo trovato qualcuno che con il cuore ha aderito a questo progetto, perché è tanto questo progetto che non porta soldi, porta ritorno di stare bene, di fare la nostra professione, è un ritorno etico e c'è stata una risposta fantastica. Guardate, io mi commuovo quando penso a queste cose. Il tutto partirà dall'attivazione, dal 3 aprile, di una linea telefonica dedicata alla prenotazione delle visite specialistiche. Il call center interno del progetto DAMA sarà raggiungibile allo 0721 88 27 27. Al momento del contatto telefonico verrà già eseguito un primo triage, raccogliendo le informazioni utili per l'organizzazione della risposta medica, che verrà così calibrata e personalizzata sui bisogni e le necessità del paziente. Dottoressa, una presa in carico a 360 gradi in questo caso? La presa in carico a 360 gradi della persona con disabilità è estremamente importante, in quanto la persona con fragilità, con disabilità, si trova in una situazione di difficoltà particolare. ha una percezione di dolore, ha necessità che qualcuno allevi la sua sofferenza e che si arrivi a un percorso diagnostico e terapeutico, al fine di mettere in atto tutte quelle che sono le procedure per il recupero del suo stato di salute.